principale posso prendere lo stipendio che siamo già al 7 di novembre quello di ottobre quello di ottobre certo senti che ho lavorato 7 su 7 o 6 7 su 7 7 su 7 quindi sono 10 ore per 7 giorni per 70 ore 4.5 4 ore e 50 ora come d'accordi 315 questa settimana 315 euro quindi sono 1200 questo mese se non ti riposi mai questo sempre a tua descrizione allora ti do qualcosa in contanti e l'altro te lo do con il bonifico come sempre va bene va bene va bene grazie principale posso prendere lo stipendio che siamo già al 7 di novembre quello di ottobre quello di ottobre certo senti che ho lavorato 7 su 7 o 6 7 su 7 quindi sono 10 ore per 7 giorni per 70 ore 4.5 4 ore e 50 ora come d'accordi 315 questa settimana 315 euro quindi sono 1200 questo mese se non ti riposi mai questo sempre a tua descrizione allora ti do qualcosa in contanti e l'altro te lo do con il bonifico come sempre va bene va bene va bene grazie grazie